C'è un saggio, devo dire, divertentissimo, contro Bart, che è scritto un francese, Jean-Marc Mandozion, e il numerico. Se la prende con Bart, che è veramente indifendibile. Vi ho detto prima che io, quando sento i francesi che teorizzano, mi viene da me, ma non sono di storico, dicevo l'altare, perché appunto finiscono con quei filosofeni, più o meno, vi ho detto prima, misteriosofici, cose del genere. Ecco, a un certo punto Bart, non in un'occasione estemporanea, ma era la produzione al Collège di France, una cosa molto istituzionale, aggiocando a quello che la spara più grossa. Cioè, nel discorso perfetto, teotico, ha pronunciato solennemente questa frase. La lingua, cioè il linguaggio che noi lo vediamo, la lingua è fascista. Terrificante. E lì, Bart da l'impeggio di sé. Perché per Bart da lingua è fascista? Perché ci obbliga a dire. Vedete anche, no, un'apparenza di sottigliezza, che però è una stupidaggine consale. Perché la prima condizione che mi viene da fare è mentale. Ma la lingua non è che mi obbliga a dire. La lingua mi permette di dire qualcosa. No, ci obbliga. Con la gerarchia, il soggetto, il predicato verbale. Quindi è fascista la lingua, è autoritaria. Terrificante. Tutto il sacro di Mandosio si è appunto su questa frase di Roland Barthes. Che forse è il punto più basso che mi ha toccato. Però questo deve farmi capire come a Eme un certo tipo di filosofia o teoria francese può generare dimostra. Grazie. Grazie. Grazie.